Ciao, sono Roberto Lacorte, faccio l'agente immobiliare da oltre 10 anni. Con questo video voglio spiegarti come si può guadagnare di più e lavorare di meno. Sai, ci hanno sempre insegnato che bisognava intraprendere un percorso di studi, magari anche laurearsi e successivamente trovare un lavoro sicuro. E magari tu lo hai anche fatto questo percorso e ti trovi in un lavoro alle dipendenze di qualcuno dove magari il tuo capo ti sta antipatico o ne sa meno di te e per cui vorresti metterti in proprio e lavorare autonomamente per guadagnare di più e avere più tempo per te. Io con i miei oltre 10 anni di esperienza posso spiegarti come fare a guadagnare nell'immobiliare. Quindi clicca sul pulsante qui sotto per avere altre informazioni.